L'istituzione parcheggia pagamento in Piazza della Repubblica, diverse le scuole di pensiero. A parere di qualcuno sembrano davvero troppi, 60 centesimi l'ora. Alcamo, 11 ottobre 2019, ore 10.48 e 49, insomma, pieno cuore della mattinata. Siamo nella Piazza della Repubblica, uno dei polmoni della città. Siamo in pieno centro storico alcamese. Ecco, una piazza che di norma è gremita di vetture, di motociclo, ma soprattutto di vetture parcheggiate. Come le immagini parlano da sole, ci troviamo in una piazza adesso deserta quasi di vetture. Perché, si chiede qualcuno non ne di Alcamo? Perché da pochi giorni, da qualche settimana, hanno messo, come si suol dire in gergo, le strisce blu a pagamento. Quindi parcheggiare in Piazza della Repubblica si paga. In tutti i centri del mondo si paga il parcheggio. Prima si faceva tanto di criticare. Alcamo non ha parcheggi. Il problema del parcheggio, dove parcheggeremo le nostre auto, macchine sempre in crescita, aumenta il numero dei veicoli. Adesso io non voglio andare né a favore dell'amministrazione né al contrario. Però prendo atto di un qualcosa che si sta registrando. Una piazza vuota. Non si riusciva a trovare un buco, sottolineo, un buco di parcheggio. E non è che c'erano delle fasce particolari. Tranne la fascia, voglio dire, post-pranzo. In tutte le città esistono i parcheggi a pagamento. Nella vicina Castellammare, nella centralissima via Roma, Piazza Petrolo, Corso Garibaldi, il parcheggio si paga. Ad Alcamo si è fatto tanto per criticare le amministrazioni precedenti, l'attuale, perché non vieno parcheggi disponibili. Adesso che vi è il parcheggio a pagamento con una minima somma, con un ticket minimo, non si parcheggia la macchina in Piazza della Repubblica. Allora il quesito che mi sorge è spontaneo. È una sorta di ostruzionismo verso l'amministrazione che ha istituito le strisce blu parcheggio a pagamento in Piazza della Repubblica? O è un ostruzionismo a noi stessi e quindi sbattere la testa e invadere le stradine circostanti? Un qualcosa che è da sottolineare, la mancanza di colonnine dove con le monete arrivare e fare il ticket. Noi fa un'insistenza dell'altra e una risposta, mi piace, non mi faccio serenente. Siamo riusciti a carpire qualcosa. Le balle, le gusse. Ma questo qua c'è Dio. Dalla sempre 60 centesimi l'ora. E' caro già. 60 centesimi l'ora è caro? Eh sì. L'hanno fatto bene o no? Hanno fatto una cavolata completamente. Ognuno giustamente va a cercare un parcheggio dove non si paga. 60 centesimi secondo lei è caro o no? Per me è un po' caruccio, per me e poi non so gli altri come la pensano. E' deserta perché ovviamente l'Alcamese è abituato a non pagare. Quindi nel momento in cui deve pagare cerca di trovare un posteggio senza pagare. E quindi probabilmente avrà intasato tutte le stradine adiacenti. Io sinceramente non sono contrario alle strisce blu a pagamento. Solo che è una cosa che consigliere alla pubblica amministrazione, quantomeno di mettere delle colonnine e di facilitare l'accesso dell'utenza al parcheggio. Dico Castellammare è così, Trapani è così. Io ogni giorno vado a Trapani per lavoro, ogni giorno parcheggio, pago pure poco. Quindi non vedo perché ad Alcama non si debba fare. E' una cosa buona. E' una forma di ritorsione. Che è anche contro la gestione da parte della pubblica amministrazione che fa le cose ma le fa probabilmente senza pensare come farle bene.